Si chiama Svetlana Krivonodich, è una donna russa la quale sarebbe presente nella lista politica chiamata Pandora Pappers. Non è molto conosciuto questo nome e questo cognome qui in Italia, ma nel gossip mondiale è molto conosciuto, infatti a quasi 47 anni di età da studentessa semplice qual'era è diventata una delle donne più ricche di tutta la Russia. Dietro ci sarebbe Vladimir Putin, il presidente di destra estrema per eccellenza, Svetlana pensate che sarebbe stata addirittura l'amante segreta di Vladimir Putin, il presidente russo per eccellenza. La donna diciamo che non è brutta del viaggio estetico e diciamo che possiede tutte quelle caratteristiche che arriva all'estetico, il posto di città di un qualsiasi uomo, ma soprattutto ha ottenuto un sacco di soldi, in pratica di soldi, gli escono da sedere stando a quello che è riportato sul web. E questa donna si troverebbe in una lista politica che si chiama Pandora Papers o Pappers, credersi voglia. Bene, ripeto, il nome di questa donna è Svetlana, il cognome è impronunciabile ed è Crivonogic. Grazie da Reandro, un narratore italiano, iscrivetevi al canale e al prossimo video.